Un buon giorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, quella di mattino 6. Anche questa mattina siamo pronti per farvi vedere le prime pagine e poi entrare all'interno dei quotidiani abruzzesi. Questo sabato 19 maggio, in cui tra le altre cose certamente la farà da padrone la parte sportiva, ieri sera il Pescara, un pareggio a Venezia, che però vale la Serie B anche per un'altra stagione. Vediamo allora le prime pagine dei quotidiani, partendo da quelle di casa nostra e partiamo dal centro, come vedete, edizione di Pescara che apre proprio con il punto salvezza che trova il Pescara, pareggio senza reti e senza emozioni a Venezia e i biancazzurri. Però è la cosa più importante, restano in Serie B, vedete, nel contrasto, Macin e Garofalo nella partita di ieri sera, che è anche la foto notizia in alto. Torniamo sulla vicenda Rigopiano, l'inchiesta per i 29 morti, Gerardis indagata dopo il dossier di D'Alfonso ai PM. Accanto, questioni di politica nazionale perché si va verso il governo Movimento 5 Stelle-Lega, stretta sul Premier il voto online degli iscritti del Movimento 5 Stelle dall'ok alla stesura del contratto che oramai può dirsi davvero definitivo. Nelle cronache, sempre a Pescara, mezza città bloccata domani per la maratona. Le biblioteche invece non se la passano molto bene senza fondi e senza il personale. A Montesilvano, caso di Via Rimini, un piano per la legalità. Questa è la prima pagina del centro edizione di Pescara, andiamo sull'edizione aquilana che invece apre con la cronaca. Presi con 100.000 euro di cocaina, l'Aquila bloccati mentre recuperano la droga, consumatori indebitati per pagare. Peraltro un servizio che vi abbiamo proposto ieri nel nostro telegiornale. La foto notizia Branduardi, il grande menestrello, oggi a Collemaggio, concerto gratis nella festa di Celestino V. Nelle cronache siamo ad Avezzano, Sessone Night scatta un arresto nella Marsica. Sempre ad Avezzano, nel Fucino, 23 ditte, si alleano nuovi progetti agricoli. A Goriano Sicoli l'amico si sposa, la squadra insiste, saltiamo. I play-off, evidentemente questioni sentimentali e ovviamente il matrimonio già organizzato che va a rimandare addirittura i play-off. Allarme sindacati, iscrizioni a scuola, l'Abruzzo perde oltre 2.000 studenti, incentivi all'agricoltura, regione 18 milioni di euro per 32 imprese agricole abruzzesi. Andiamo sull'edizione teramana del centro, appalti, inchiesta sulla provincia. Indagati per corruzione il delegato alla viabilità, un funzionario e due imprenditori. La fotonotizia, il tempo visto dai bambini attraverso poesie e disegni. Il concorso di terziario donna, questi sono gli alunni della scuola Lucidi, vincitori del concorso per la politica, verso il ballottaggio, anche se ancora non siamo nemmeno arrivati al primo turno, però già si pensa al secondo turno. Teramo al voto, grandi manovre anti-Morra. Già si tratta, si legge, sotto traccia tra le forze civiche, se D'Alberto dovesse andare al secondo turno con Giandonato Morra per avere l'appoggio anche dell'ex modello Teramo, Mauro di Dalmazio. Alla Cordivari, invece, operaio rischia l'amputazione di un piede. A Martinsicuro via le multe per chi compra dagli abusivi. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella di Chieti-Lanciano-Vasto, la cui apertura riguarda la sanità. Nuovo ospedale, pronti 30 milioni di euro. Chieti, la regione, mette i fondi pubblici per far partire l'operazione Maltauro. La foto notizia, siamo a Vasto, carabinieri, polizia e finanza nella sede intitolata a Ciampi, Vigilanza in città, ci pensano le associazioni d'arma. A Chieti sempre bollettettare in ritardo, lite sul Teate Servizi. Il sindaco Umberto Di Primio si scaglia contro la Teate Servizi per le bollette arrivate in ritardo. Il sindaco denuncia i soliti errori e parla di insuccesso. Roghi Dolosi autobruciate, paura a Lanciano e a San Salvo. A Tortona pesca 4.000 ricci di mare e si prende una maximulta. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sul Messaggero per vedere l'apertura che è dedicata. La storia di Silvio Buttiglione, peraltro poi vi mostreremo anche il servizio relativo a questo fatto. Finisce male la storia dell'imprenditore Silvio Buttiglione, imprenditore di origine pugliese, ma praticamente montesilvanese d'adozione. La sua proprietà venduta all'assa dal tribunale, la polemica con Grillo mi aveva promesso aiuto e invece poi non ha mantenuto quanto aveva promesso. In alto, premio Nord-Sud, la poesia che nasce dall'esilio, Yang Lian a Pescara, con un nome che è praticamente impronunciabile. A Chieti, 30 milioni per l'ospedale, via libera al progetto per la Serie B. Pescara, pareggio sofferto, salvezza conquistata, decisivo Fiorillo con una serie di parate decisive. Palo dei Meneti, nel primo tempo Pettinari aveva avuto un'ottima palla goal. Di spalla per corsi d'arte, un museo a cielo aperto per celebrare Pietro Cascella. Scendiamo in pagina perché, come vedete, la foto più grande riguarda la Gerardis che praticamente c'è questo scambio di accuse tra la Gerardis e D'Alfonso. L'ex direttrice è tirata in ballo dal dossier del governatore e lei risponde, spieghi e non scarichi le responsabilità, ma anche l'ex DG è indagata. A Sulmona la sentenza, bambini Novax esclusi da scuola, il Tar approva. Altra notizia, cocaina nascosta al cimitero, maxi sequestro all'Aquila, nuova mappa del traffico. Il capoluogo di regione diventa centro di stoccaggio. Acchieti, locali dello spaccio chiusi dal questore dopo la retata in basso. Operaio rischia l'amputazione e incidente in fabbrica. La Cordivari di Pagliare di Morro d'Oro. Siamo in provincia di Teramo per andare sul quotidiano della provincia di Teramo. Questa è l'apertura, appalti combinati, cinque indagati. Dopo i rifiuti e Castrum, la Guardia di Finanza apre un altro filone d'inchiesta sul settore degli asfalti stradali. In alto, questa notizia particolare, gli ultraciclisti ripartono per il tour della Sardegna, giro dell'isola in cinque giorni. A centro pagina, la foto notizia, stop alle Maxi Frane, 15 milioni per Castelnuovo, Ponzano, Casoli e Padula. Altre notizie, in basso, operaio perde un dito del piede, investito e trascinato da un carrello alla Cordivari. È la notizia che vi leggevamo prima. Di spalla, Isola del Gran Sasso, lascia lavoro e fidanzata per diventare frate passionista. A Giulianova ha già rientrato il divieto di balneazione, dunque una buona notizia. Sempre in basso è sempre a Giulianova, il comune ce l'ha con il turismo. Poi vedremo di chi sono queste parole. L'anniversario va socorossi e letterati in memoria del leader radicale Marco Pannella. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali per vedere anche come procede la stesura del contratto che era mai definitiva. Ma questo accordo di governo che dovrebbe nascere tra poco tra Lega e Movimento 5 Stelle. Andiamo sul Corriere della Sera che parla di strappo nel centro-destra. Movimento 5 Stelle e Lega vicini all'intesa sul Premier, le ipotesi Conte e Roventini. Berlusconi dice Salvini parla per sé, voto del Movimento 5 Stelle sia il programma dal 94% della base. La UE invece dice fate le riforme. A centropagina purtroppo la tragedia a Cuba, il Boeing, l'aereo precipitato all'Havana, anche i turisti a bordo, volava da 39 anni questo Boeing, 109 i passeggeri, 3 donne superstiti. E poi sempre in... qui siamo a Cuba in centro-America, scendiamo in sud-America, chiesa e pedofilia. Si dimettono i vescovi del Cile dopo l'incontro con il Papa. La Repubblica, Lega 5 Stelle, c'è l'intesa sul Premier, avviso della UE rispettate i conti. E per il Premier è favorito il giurista Conte, ma Di Maio spera ancora dal voto grillino 99-94% di sì al contratto, ovvero la base evidentemente approva a larghissima maggioranza il programma di governo. In alto, la figlia di Borsellino in carcere dai killer, dateci la verità. E poi c'è anche la lettera, proprio di Fiammetta Borsellino, il percorso del perdono. Ricorderete la strage di Via D'Amelio in cui perse la vita proprio Paolo Borsellino. La stampa arriva alla Flat Tax, targata Lega Movimento 5 Stelle, per sei italiani su dieci, però non ci sarà alcun beneficio. La base grillina approva il contratto di governo, Berlusconi attacca Salvini, è la fine del centrodestra. Modifiche al testo su BCE, Euro e Russia, la Consob avverte i leader, misurate le parole e lo spread vola. In la fotonotizia, molto molto grande, vittima dei bulli, siamo negli Stati Uniti, fa strage nel campus, dieci morti, l'attacco a Santa Fe in Texas. Il killer ha 17 anni e insieme al fucile aveva con sé anche bombe rudimentali, nove vittime erano compagni di classe, è stato arrestato anche un complice. Il fatto quotidiano, le 30 cose che vuole fare il Salvimaio, Movimento 5 Stelle e Lega, patto anche sul Premier. Di spalla Salvini al bivio, denuncia Bossi e Belsito o chiude il processo Lega? Queste alcune domande che torneranno poi nel corso del tempo sulla conduzione della Lega, che evidentemente potrebbe aver concluso con questo accordo l'esperienza del centrodestra Unito. E poi ci sono anche altre analisi, per esempio quella di Michele Ainis, Premier, chi fa il contratto, dice il giurista, e poi Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, tra le altre cose. Ma che unni sono altri i rischi? Il manifesto parla di nulla osta e leggiamo anche il sottotitolo con il 94% di sì, la base 5 Stelle dà il via libera al contratto di governo con Salvini, ma al voto online partecipa solo un terzo degli iscritti di Maio Esulta e domani alle regionali in Valle d'Aosta, prove di alleanza Lega-Movimento 5 Stelle, ancora una volta vuota la casella per Palazzo Chigi. In alto, e infatti come vedete i riflessi, c'era una volta il centrodestra, botte da orbi tra Berlusconi e Salvini. E poi c'è anche questa intervista a Pasquale Tridico, candidato ministro del Movimento 5 Stelle, perché dice ho fatto un passo indietro. Il messaggero, edizione nazionale, ovviamente la prima pagina nazionale, la UE all'Italia, serve la manovrina, Bruxelles no alla procedura sul debito, ma correzione da 5 miliardi, lo spread sale a quota 166, la base Movimento 5 Stelle dice sì al contratto, spaccatura nel centrodestra, Salvini a Berlusconi e tradimento. La fotonotizia, schianto dopo il decollo, strage a Cuba, giallo sulla presenza di turisti italiani, l'aereo andava da Lavana a Holgen, 104 passeggeri, 3 superstiti. Struporata dal branco in una panda rossa, nuovo caso a Roma, la vittima tirata a forza nella macchina, il PM di Tivoli indaga per violenza di gruppo. Il tempo, con un gioco di parole, la tassa da morto, caro estinto. Il Campidoglio, il Comune di Roma, stanga pure le lacrime, 202 euro per l'ultimo saluto al cimitero, la sala del commiato è andata a fuoco, e per usare quella nuova adesso si deve pagare. La fotonotizia con Berlusconi che dice Dammi il 5, Cav scatenato, pronto a tornare se Mattarella mi dà l'incarico. Quattro governi non bastavano, Silvio vuole un'altra chance. Il popolo grillino intanto dice sì, voto bulgaro sul contratto. Il documento sul russo passa con il 94%. E poi, basta, noi massoni non siamo mafiosi, il gran maestro Bisi replica a Lega e Movimento 5 Stelle che hanno inserito nel contratto la clausola antilogge. Libero. Ecco il documento di Movimento 5 Stelle e Lega. Beccatevi sto contratto e così andremo a fondo. Flat tax, reddito di cittadinanza, assunzioni, la lista della spesa da 110 miliardi e non ce n'è uno in cassa. 5 Stelle vuole risolvere tutto chiedendo quattrini alla UE che invece ci rifilerà due dita negli occhi. E poi, la fotonotizia, siamo in casa Partito Democratico perché si legge, Renzi farà fuori Martina, oggi assemblea PD, destino segnato per l'autoreggente. E poi in basso, Di Maio, questioni che riguardano i 5 Stelle, Di Maio Gnaro finge di consolare lo sfrattato, il sindaco Grillino non salda i debiti e l'imprenditore perde casa propria. La verità, che appunto ci dice qual è la verità sul contratto di governo. Lega e 5 Stelle hanno un programma, manca il capo. Abbiamo letto la versione definitiva del patto giallo-blu e ci abbiamo trovato molte cose di centro-destra. Una serie di proposte sensate, con un unico problema. Le coperture, diteci dove sono i soldi e poi fate il solo esecutivo reso possibile dal Rosatellum. Sempre nel centro-destra, Cavaliere e Salvini e Ferricorti, Berlusconi si candida a Premier. In alto, invece, per il centro-sinistra, l'unità sull'orlo del crack firmò supercontratti agli amici di Renzi. L'agenzia del fotografo dell'ex segretario ha pignorato i mobili del giornale. In basso, i nuovi farmaci che prevengono il mal di testa, costosi ma efficaci, una speranza per 26 milioni di italiani. L'avvenire Movimento 5 Stelle si lega. Questo gioco di parole. Sul web i pentastellati approvano l'intesa con il 94%. Berlusconi attacca Salvini. Saremo all'opposizione. Concluso il contratto di governo, torna l'ipotesi Conte come Premier. Lo spread sale a 160. Richiamo della Consob a misurare le parole. E poi le analisi, anzi le parole delle associazioni sui rom programmi razzisti. La Conf Cooperative dice non smontate il Jobs Act. A centro e pagina, abusi, tutti i vescovi cileni si dimettono, perdono. I 39 presoli rimettono il mandato al Papa. E un gesto per ripartire. Il secolo XIX, Movimento 5 Stelle e Lega, primo sì della base. Dai grillini, 94% di sì al contratto di governo. Ma c'è la lite tra Berlusconi e Salvini. Analisi sui punti dell'intesa. Benefici della flat tax solamente per il 40% dei contribuenti. La strage in Texas, al liceo 10 morti. Studente vittima dei bulli, spara ai compagni. Il mattino Berlusconi, Salvini, Alleanza a pezzi. Plebiscito online dei 5 Stelle sul contratto. Vola lo spread, la UE servono altri 5 miliardi. Il Cavaliere, il leader della Lega parla per sé, tornasse a casa. La replica, sei tu il traditore. Premier ai 5 Stelle, sì del carroccio. Chiudiamo con il sole 24 ore. Perché Milano brucia 22 miliardi e mezzo. Al contratto di governo mancano 50 miliardi. Boccia debole nella parte industriale. Sì all'intesa dal 94% dei voti online. Berlusconi, Io Premier, Lega sconcertante. In una settimana Piazza Affari ha perso il 3%. Lo spread vede quota 165. Il massimo da 7 mesi a questa parte. E poi Dazzi ed Energia. Merkel e Putin contro Trump. Lotteremo per Nord Stream 2. Ancora in Italia il polo dell'auto di lusso FCA. Il gruppo è pronto a concentrare la produzione di SUV. Maserati e Jeep, Panda e Punto invece andranno all'estero. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi. Partendo dalla Gazzetta dello Sport. Con gli acchiappafantasmi. Questa è l'apertura della Rosea. I quattro antidoti nerazzurri contro la sindrome del 5 maggio. Perché domani c'è Lazio-Inter che è un vero e proprio spareggio Champions. C'è Gio Cancelo, Mauro Riccardi, Raffinia e Gio Miranda. Questi sarebbero i quattro acchiappafantasmi. Insomma mutuando il film Ghostbusters. Un grandissimo successo cinematografico. In alto invece Juve tutti in piedi. Festa Scudetto, Urra Buffon. Chiellini sarà il nuovo capitano dopo che, dopo la partita di domani, insomma avrà salutato Gigi e Buffon. Lo spunto di Pier Bergonzi, l'eredità del numero uno. E in casa Milan c'è una tegola. Suso stop, Gattuso punta su Uccutrone. Lo spagnolo si è infortunato, salterà l'ultimo match. Il futuro del tecnico del Napoli Sarri, dell'Aurentis Sarri a Napoli. Ottimismo e anche polemiche. In basso. Ieri la tappa che arrivava a Nervesa della battaglia vince ancora Viviani che fa tris in volata. Ma oggi ci sono le sentenze. Del mostro, lo Zoncolan, la salita forse più dura d'Europa. L'Olimpionico è 3-2 con Sam Bennett della Boransgrohe. Oggi Aro e Fromm per il riscatto. E Yates, la maglia rosa, sogna il colpo. Sarebbe il terzo in questo Giro d'Italia. Ovviamente siamo tutti curiosi di vedere come andrà oggi sullo Zoncolan. In Serie B lo vedete. Parma da impazzire all'ultimo respiro. Terza promozione di fila. Ritorno in Serie A da record. 2-0 degli Emiliani alla Spezia. Vale il secondo posto perché il Frosinone si ferma 2-2 con il Foggia e va in playoff. Con Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia. Queste squadre si giocheranno il terzo posto per la Serie A. Ma dall'altra parte in basso, retrocede il Novara, ci sarà lo spareggio tra Entella e Ascoli. Poi ovviamente invece torneremo sulla serata del Penzo di Venezia. Perché il Pescara chiude, per fortuna evitando i play-out. Ma certamente un'annata non indimenticabile. Il Corriere dello Sport con Allegri che dice Juve, dammi il 5. Oggi festa a Scudetto. L'addio di Buffon contro il Verona. Allegri si sbilancia sul suo futuro. Resterà per vincere il quinto tricolore. In alto, Urlo de Vrij, sfido l'Inter, impaglia un posto in Champions. L'olandese ha scelto di giocare. Il difensore della Lazio sarà in campo contro quella che sarà la sua prossima squadra per l'ultima giornata di campionato. In basso, Parma in A. Frosinone sciocche del secondo anno consecutivo. Di fatto che il Frosinone getta all'area la promozione diretta in Serie A. Lungo ai play-off, 2-2 col Foggia, Emiliani promossi, Novara scende. MotoGP dove i Ducati rinnovano fino al 2020. Tennis, Fognini a casa, ma a testa alta. Fabio vince il primo set con Nadal e poi lo spagnolo di Laga. Diokovic, tutto ok. Tutto sport. Tre mosse per tenere Allegri. Queste le mosse in casa Juve. Oggi la festa a Scudetto contro il Verona. L'ufficialità è arrivata scorsa settimana. Ovviamente la Juve in questo weekend festeggerà proprio all'ultima di campionato. E poi il commissario straordinario della FIGC Fabricini dice cosa lascia da bette. La scelta di Mancini e seconde squadra è lo stoccata a Nicchi. Il prossimo presidente federale. Di spalla l'intervista a Maldini con Gigio Donnarumma vedo solo sconfitti. Stupito da gattuso per il Torino. L'ora di Milinkovic. Poi vi è in prestito. Ovviamente non Milinkovic, Savic. Milinkovic del Torino. Poi altre notizie. Oggi la finale di FA Cup. Guidolin tra Conte e Murigno finirà così. Serie B storico Parma e A. Il Novara retrocede. E poi Viviani Tris per il ciclismo. Oggi c'è l'esame dello Zoncolan. Noi ci fermiamo per questa prima parte. Dove abbiamo visto le prime pagine. Adesso le previsioni del meteo. La pubblicità. E poi rientriamo e entreremo all'interno dei quotidiani regionali abruzzesi. A tra poco. Di nuovo insieme, seconda parte di Mattino 6. Siamo pronti per entrare all'interno dei nostri giornali. Vedete alle mie spalle. Ripartiamo da pagina 2 del centro. Parliamo di scuole. E purtroppo non con belle notizie. Perché l'Abruzzo perde 2.117 studenti. Crollano le iscrizioni negli asili e nelle superiori. Pescarecchietti, le province più colpite. E come vedete gli sviluppi poi sono a cascata. Perché andranno a casa 300 insegnanti. Questo è l'allarme peraltro lanciato dai sindacati. Insomma ci sono le tabelle con i numeri. Poi disaggregati per province. Insomma da vedere purtroppo. Per quello che è un allarme nel vero senso della parola. Pagina 3. Agricoltura. Ecco a chi andranno i fondi. Da Amadori a Tollo a Masciarelli, Marramiero e Dele Migi. Sulla lista selezionata dalla regione è composta da 32 marchi. Anche qui c'è come vedete lo specchietto centrale. Per vedere le imprese e anche il contributo premiale che sarà dato dalla regione. Di spalla tutti i comuni beneficiati per frane e sisma 63 milioni. E ovviamente Civitella del Tronto in cima alla lista. E nella foto vedete proprio il primo cittadino di Civitella, Cristina Di Pietro. Andiamo sulla pagina abruzzese e torniamo sulla vicenda Rigopiano. Perché come vedete è indagata anche Cristina Gerardis, l'ex direttore generale della regione nel mirino della procura. Dopo il dossier presentato da D'Alfonso a inizio maggio. Ovviamente siamo all'interno dell'inchiesta per le 29 vittime. Ecco il dossier e la memoria difensiva presentati dal governatore al IPM. E' proprio il dossier di D'Alfonso a tirare in ballo Cristina Gerardis. E come vedete, restando sempre su Rigopiano, tra i parenti delle vittime finisce Acquerele. Due denunce per botte e minacce. Tande e Matrone ora contro accusano l'ex sindaco Gian Caterino. Ma come vediamo la questione dell'indagine su Rigopiano la troviamo anche sul messaggero. Il nuovo fronte su Rigopiano. Anche la Gerardis indagata chiarirò la mia estraneità. L'ex DG chiamata in causa dal dossier di D'Alfonso. Ruoli distinti tra politica e burocrazia. Dice la Gerardis. Spieghi le sue ragioni senza fare scarica barile. E poi le tensioni lite tra i parenti delle vittime. E ci sono delle querele in vista. Torniamo sul centro. Per entrare all'interno delle pagine delle città. Siamo a Pescara. Disagi per gli studenti. Perché le biblioteche sono a mezzo servizio. Servono fondi e personale. La Fondazione Comunista denuncia le riduzioni di orario della d'annunzio. La CGL sollecita il potenziamento degli organici e la riorganizzazione. Anche perché, come vediamo dalla tabella, questi sono i luoghi di studio in città. Sono luoghi importantissimi. Soprattutto per i ragazzi e chi voglia studiare. Ma non solo. Sempre a Pescara. Domani in mezza città. Sarà chiusa per la corsa la Maratonina del mare. Divieti dalle 7 alle 13. Traffico bloccato anche su Corso Vittorio. Via Fabrizia e Riviera Sud. Parteciperanno oltre 2500 atleti. Vedete nella mappa quello che sarà il percorso della gara. Ed evidentemente quelle che saranno anche le limitazioni del traffico. A centro pagina la Riviera riapre per il weekend. I lavori riprendono lunedì. Stop ai veicoli da Via Lemuzzi a Via Galilei. Nuovo intervento in Via Davalos. Oggi c'è il convegno su parete lungomare sud bloccato davanti alla caserma della finanza. L'asta in tribunale venduta la casa di Buttiglione. Mi barrico. Da grillo solo promesse. L'abitazione di Montesilvano è stata giudicata per 142 mila euro. L'inquiliente erano 6. L'ex imprenditore contro il Movimento 5 Stelle. Ma pettinare in replica siamo gli unici ad avere messo soldi nel fondo. E proprio su questa vicenda andiamoci a vedere il servizio che riguarda proprio questo imprenditore la cui casa oramai è andata all'asta. Vediamo. E' stata venduta all'asta questa mattina per 142 mila euro la casa dell'imprenditore Silvio Buttiglione. Vessato dai debiti con le banche è diventato un caso nazionale sposato dal Movimento 5 Stelle. Tanto da mobilitare direttamente Beppe Grillo che arrivò in tribunale a Pescara in occasione della prima udienza. Era il 21 di maggio del 2014. Allora il leader Maximo Pentastellato aveva ventilato a Buttiglione l'ipotesi di una colletta per poter ricomprare la casa ed evitare di lasciarlo in mezzo alla strada a cui avrebbe partecipato anche lo stesso Grillo. Colletta che a detta del Movimento è ferma 10 mila euro cifra insufficiente ma secondo gli esponenti grillini la colletta proseguirà comunque. Sempre Grillo aveva annunciato in quella sede una riforma radicale del sistema di Equitalia per evitare la messa all'asta delle prime abitazioni. Un annuncio però che al momento non si è tradotto in legge. Alla fine il giorno della vendita è arrivato a quattro anni esatti dall'incursione pescaresi di Grillo accompagnato da una grandissima folla. Questa mattina in tribunale a Pescara oltre allo stesso Buttiglione c'erano anche la senatrice dei 5 Stelle Gabriella Di Girolamo e il consigliere regionale pentastellato Domenico Pettinari oltre agli esponenti dei punti di ascolto SOS Equitalia e diversi cittadini che hanno esposto cartelli con la scritta Siamo Tutti Silvio Buttiglione. A Grillo mi sento di dire di non promettere una cosa se non sei sicuro di mantenerla specialmente ad una persona che ha tentato il suicidio e che vive nella disperazione. Questo è il commento dell'ex imprenditore di origini pugliese ma residente a Montesilvano dopo l'asta. Buttiglione ha poi detto di volersi barricare in casa fino a quando la polizia non lo butterà fuori non avendo ormai più nulla da perdere. E questa notizia la ritroviamo come vedete anche sulle colonne del messaggero venduta all'asta la casa di Buttiglione si è chiusa in peggiore dei modi in tribunale la vicenda dell'imprenditore messo sotto scacco da due banche creditrici in suo aiuto come abbiamo sentito si erano mossi Grillo e Di Maio ma lui dice evidentemente poi infatti non lo hanno smentito da loro soltanto promesse non mantenute il Movimento 5 Stelle invece replica è una sottoscrizione ancora aperta quella per salvare la casa di Silvio Buttiglione e poi c'è la voce degli esperti ecco come evitare di perdere tutto una rassicurazione di tante vittime in difficoltà nessun pignoramento per i debiti verso Equitalia. Andiamo avanti con i rifiuti ospedalieri e torniamo a pagina 19 sul centro sulla spiaggia protesi di silicone e flebbo alla nave di Cascella del Bianco abbiamo ripulito ma è colpa della mareggiata di spalla il 26 maggio polizia in via Roma con gli studenti della media Tinozzi e poi un maggiordomo virtuale siamo pagina 20 per difendersi dai ladri all'aurum la fiera dedicata alle ultime novità tecnologiche contro le intrusioni un sistema controlla cancello luci allarme tapparelle e persino la musica andiamo avanti Bioster condanne annullate il processo va a Bergamo e poi siamo a Montesilvano abusi violenze rifiuti pugno duro per via Rimini il comitato di ordine e sicurezza stila l'emergenza e convoca tutti gli altri enti l'obiettivo elaborare con Ater H ed Enel un piano per ripristinare la legalità di spalla stanziati i fondi lavori contro gli allagamenti in via Piemonte e via Maremma a città Sant'Angelo nuovo ponte sul Saline apertura il prossimo 30 maggio e in alto spoltore affari generali il comune assume siamo a Francavilla qui a pagina 25 via al cinema per l'estate l'auditorium sirena il comune avvia un bando per la ricerca di una società interessata proiezioni tutti i giorni dal 2 giugno al 15 settembre il biglietto costerà 2 euro e mezzo 2 euro e 50 sempre a Francavilla challenger di ciclismo paralimpico in gara a Zanardi a Cepagatti al voto Movimento 5 Stelle presenta candidati e programma per le elezioni Siamo a Penne, Palazzo De Cesari, San Rischio, chiusa la strada la decisione dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco allertati dai residenti l'allarme è partito dopo i forti rumori che provenivano dal tetto presumibile effetto dei cedimenti a letto manoppello, vigili, nasce il nuovo distaccamento cambiamo quotidiano, torniamo sul messaggero andiamo avanti perché sempre a Pescara il poeta e l'economista vite da esuli al premio Nord Sud sempre a Pescara nuovi asfalti per 4 milioni il consigliere Bruno risorse preziose da ricco avanzo di amministrazione anche qui ritroviamo la vicenda Bioster, processo da Pescara a Bergamo con danne nulle e la prescrizione si fa sempre più vicina e viene definito come un colpo di scena Siamo all'Aquila qui Progetto Case ha revocato il bando della discordia annullato il provvedimento sugli alloggi voluto ed emanato dall'ex giunta Cialente nel testo le prime 80 assegnazioni sarebbero andate a cittadini non italiani e poi di spalla il terremoto è centrale nel contratto Lega Movimento 5 Stelle perché lo affermano i vertici abruzzesi di Lega 5 Stelle perché c'era stata polemica sul fatto che non fosse la questione della ricostruzione centrale proprio all'interno del contratto di governo Droga nascosta rimaniamo all'Aquila nel cimitero arrestati scoperti due stranieri a Ocre mentre dissotterravano un chilo di coca pulissima composta da un unico blocco il sequestro della narcotici più ingente degli ultimi 25 anni in carcere un 48enne Macedone e un 30enne Albarese e proprio su questa operazione ci andiamo a vedere il servizio Si chiama Piazza Pulita l'operazione della squadra mobile dell'Aquila diretta dal dottor Tommaso Niglio che ha evitato che un chilo di cocaina fosse immesso nel mercato aquilano perché l'offerta c'è ma vuol dire che c'è anche la domanda I particolari dell'operazione che ha portato all'arresto di Tahir Selmani Macedone di 50 anni e di Adi Siliai Albanese di 28 anni circa trovati in flagranza mentre dissotterravano lo stupefacente a Ocre nei pressi del cimitero sono stati svelati in una conferenza stampa in questura il sequestro più ingente mai avvenuto in città questo della mobile con narcotici e collaborazione della squadra volanti l'indagine è partita grazie all'applicazione Youpol agli agenti è arrivato un messaggio a Paganica c'è un soggetto che spaccia liberamente da qui sono stati individuati i soggetti e pedinati per un tempo esiguo si muovevano con velocità non parlavano mai a telefono di affari a marzo erano stati fermati dalle volanti tra l'altro in macchina avevano un tirapugno e una mazza da baseball il macedono aveva anche un ordine di espulsione dal questore perché soggetto pericoloso diverse le piazze di spaccio che avevano creato l'Aquila Paganica, Bazzano e Sant'Elia l'albanese prendeva i contatti ma erano molto abili e in giro non portavano grandi quantità di vidi sostanza tant'è che quando furono fermati avevano soltanto due grammi con loro e non trattavano solo cocaina perché a Genzano di Sassa nelle scorse settimane il macedono era stato trovato con la marijuana per il valore si tratta di 100 euro a grammo quindi 100.000 euro sul mercato la droga ora sarà analizzata ma la mobile ha già constatato che si tratta di un livello di purezza inusuale per la città questo sequestro che è pringente fatto all'Aquila di cocaina un cuore di cocaina ha impedito che la città fosse inondata di questa sostanza stupefacente abbiamo arrestato due cittadini stranieri un macello e un albanese questo ha testimonianza che l'Aquila è diventata anche un luogo dove ci si può rifornire non soltanto una piazza di spaccio dove si può incorrere in attire in più di due restiamo all'Aquila ma in provincia dell'Aquila perché siamo a Sulmona il Tar dice solo bimbi vaccinati in classe importante sentenza il diritto alla salute degli altri prevale su quella l'istruzione vince la linea Lorenzini una famiglia di Sulmona con tre figli non aveva proceduto al decalogo e da lì era scattato il divieto e il Tar ha dato ragione a chi il divieto poi lo ha evidentemente imposto scendiamo in basso dipendente siamo ad Avezzano Tecneco picchiato e rapinato e poi il senatore Quagliariello in visita all'ospedale di Avezzano a Sulmona giungla urbana il biglietto da visita cambiamo pagina siamo a Chieti Coca e Movida chiusi due locali sono laboratori della droga il questore sospende per dieci giorni il pub Wanted risolante Bulldozer lo stop dopo gli arresti per spaccio del titolare del fratello del titolare e del cameriere e poi la vicenda teatro e servizi il presidente pronto a farsi da parte a far traboccare il vaso sarebbe stata una dura lettera inviata dal sindaco ai vertici proprio della teatro e servizi in basso la delibera oggi la regione dall'ok perdon ospedale la regione dall'ok ai 30 milioni a Lanciano blitz in ospedale trovate carenze controlli dei carabinieri nel reparto di psichiatria dell'ospedale Renzetti di Lanciano difetti gerico-sanitari e strutturali scenario peggiorato le stesse problematiche emerse durante l'ispezione scattata a gennaio ma nessuno è intervenuto per risolverle notti infuocate auto incendiate a Lanciano e San Salvo andiamo avanti cambiamo ancora provincia siamo a Teramo sapevo che lei aveva 12 anni l'orco è il maestro di Zumba alla sbarra c'è l'istruttore 45enne sudamericano che ha abusato della piccola lieva teramana dopo gli atti sessuali l'uomo avrebbe scambiato delle foto ose con la bambina sul suo profilo facebook e poi di spalla per comizi affissioni decalogo e multe salate oggi c'è il ricordo di Marco Pannell ad Atri chiude il centro per le riprese di Geo e Ngeo la trasmissione di Rai 3 in basso allarme tumori l'osservatorio vuole le prove siamo alle falde del Gran Sasso e poi mobilità sostenibile in bici a scuola e al lavoro Muv Te con una crasi tra Muv e Teramo per 10 comuni della provincia e poi siamo a Morrodoro trascinato dal macchinario e grave l'incidente all'industria a cordivari di Pagliari di Morrodoro la gamba dell'operaio è rimasta agganciata al nastro carrellato al 52enne stato subito soccorso dai colleghi e poi portato in elieambulanza al Mazzini rischia l'amputazione del piede torniamo sul centro perché torniamo a Chieti 30 milioni per il nuovo ospedale anche qui la regione trova i fondi per dare il via all'operazione Maltauro Paolucci sia al contributo pubblico così risparmieremo l'appalto della sanità e questo in foto è come vedete il rendering l'elaborazione del progetto Maltauro sempre a Chieti Mirò ritorna al comitato via il WWF denuncia non c'è trasparenza e Altar ricompare anche Megalò 3 Lanciano evade da casa e dà fuoco all'auto del vicino ai domiciliari per rapina trentenne esce di notte per ripicca dopo un diverbio incendia la 500 dell'uomo e viene arrestato e questa che vedete è proprio la 500 una volta spente le fiamme altra auto bruciata a San Salvo bruciata l'auto a un ingegnere Pilkington in un mese e il terzo incendio doloso di vetture nel Vastese c'è la solidarietà da parte della CGL in basso a Ortona pesca 4.000 ricci di mare maximulta blitz della guardia costiera contro la cattura dei prodotti ittici nel periodo del fermo biologico siamo a Teramo appalti in provincia quattro indagati sotto accusa il consigliere alla viabilità Scarpa Antonio due imprenditori tra cui Di Eleuterio e un funzionario dell'ente la nuova inchiesta che nasce dall'inchiesta Castrum come vedete altra notizia tra intercettazione e cene spuntano 1.500 euro sospetti i primi indizi in mano ai pubblici ministeri in basso a Martinsicuro siamo in vibrata multe anche a chi compra dagli abusivi fino a settembre sanzioni dai 100 ai 500 euro per gli acquirenti e 400 per i venditori siamo in provincia di Teramo operaio rischia di perdere un piede infortuni all'accord di Vare a Morrodoro l'uomo di Notaresco schiacciato da un carrello soccorso con l'eleambulanza Cologna in una notte invece sono stati rubati tre trattori siamo a Roseto consiglio saltato PD sotto accusa l'opposizione siete allo sbando la replica ora serve un'altra seduta che costa 1.500 euro in basso siamo a Giulianova usa l'automobile pignorata assolta i legali provano che l'imprenditrice non ha capito una comunicazione che però non era chiara a Mosciano un finto avvocato tenta di raggirare una donna anziana rimaniamo in provincia di Teramo andando sul quotidiano la città asfalti inchiesta sugli appalti combinati la guardia di finanza indaga 5 imprenditori edili dirigenti pubblici e un consigliere provinciale il nuovo filone si legge degli appalti combinati il presidente della provincia di Sabatino però difende il sistema nessuna predominanza con la rotazione delle imprese e poi sempre a Teramo Vasco scrive una lettera per ricordare Palnella verrà letta oggi dai radicali al cimitero di Cartecchio per celebrare il secondo anniversario della scomparsa del leader radicale Muvete il progetto ciclabile entra nel vivo nella conferenza dei servizi di ieri mattina la suddecisa l'ubicazione delle 10 velostazioni in provincia Corso San Giorgio si conferma attrattivo dopo la nuova libreria sta per aprire un noto marchio dell'abbigliamento cittadino e poi andiamo avanti una campagna elettorale tridimensionale l'ha trovata il disegnatore Carmine di Giandomenico di Teramo vive così offriamo un altro punto di vista teatro romano ecco come è andata la lunga storia del recupero riceviamo e pubblichiamo un intervento che fa il punto sulla cronologia degli interventi sul monumento imperiale vedete insomma è una ricostruzione molto lunga per il teatro romano una vicenda complessa in provincia 15 milioni per il dissesto dei comuni presentati i primi quattro interventi per le situazioni più critiche Castelnuovo Ponzano Casoli e Padula e queste sono le quattro emergenze e i relativi fondi ricostruzione frenata dall'incertezza sui contratti appello delle istituzioni dai lavoratori dell'UTR per risolvere problemi disparità ormai noti da tempo per la viabilità siamo in vibrata benvenuti nella giungla delle strade della vibrata marciapiede strade invase dall'erbaccio pedoni costretti a camminare nel bel mezzo della carreggiata e queste sono alcune foto che riassumono una situazione non semplice a Martinsicuro giro di vite contro il commercio abusivo multe salatissime per chi vende e chi acquista merce contraffatta a Giulianova accanimento contro il turismo giuliese critiche di Guido Baldi dopo il ricorso al tribunale di quattro attività cittadine il compromesso un'amministrazione illuminata deve far rispettare la legalità ma allo stesso tempo tutelare il settore e poi a Roseto il consiglio saltato l'opposizione ha fatto un torto ai rosetani Simone Aloisi critica la decisione di chiedere il numero legale mentre si discute della variazione di bilancio e poi Pavone in calza per amministrare ci vuole passione competenza dedizione senso del dovere disponibilità all'ascolto tutte cose che mancano a Digirolamo e alla sua amministrazione ripartiamo con lo sport adesso e ovviamente partiamo dal Pescara missione compiuta serviva un punto a Venezia per la salvezza e alla fine la squadra di Piloni lo porta in cascina nel primo tempo pettinare una grande occasione poi nel secondo tempo Fiorillo a blindare il risultato in basso Piloni resterei volentieri ma decide la società ci vediamo il servizio della partita è proprio le parole del tecnico bianco azzurro Baby Piloni la tanto sospirata salvezza è arrivata anche se negli ultimi 90 minuti e con un pizzico di sofferenza nella notte veneziana ma quel che conta è che anche nella prossima stagione il Pescara giocherà nel campionato di serie B e per come si erano messe le cose qualche settimana fa è giusto essere soddisfatti e far festa a 8 km dalla sua preganziolla Giuseppe Piloni si è tolto la soddisfazione di salvare i biancazzurri e porre così forte la sua candidatura a restare sulla panchina adriatica anche nel nuovo torneo ci sarà tempo e modo per pensare al futuro e meditare sui tanti errori commessi oggi è però il giorno della permanenza in B al resto si penserà da domani al penso Pilon che sente il profumo di casa propone una Pescara da battaglia in difesa si rivede per rotta al posto dello squalificato coda a centrocampo e Macin a sostituire Brugman con Coulibaly a completare il reparto centrale con Valzania per il resto nessun'altra novità rispetto a sabato scorso Inzaghi fa invece un po' di turnover schierando Reine Mediana e Zigoni in avanti con Geico nell'impianto dell'isola di Sant'Elema ci sono quasi 6.000 spettatori con 300 tifosi biancazzurri direzione di gara affidata a Serra di Torino in una serata fresca e piovosa prima emozione targata Pescara al quinto con un tiro di Capone che però non riesce a dare potenza alla sua conclusione centrale sul capovolgimento di fronte palla da Zigoni a Geico che chiama alla parata Vincenzo Fiorillo gara vibrante con le due squadre che attaccano a pieni organici al sedicesimo Fiammata del Del Fofino con un tiro centrale dai 25 metri di Coulibaly le due squadre hanno difficoltà ad arrivare nelle rispettive aree di rigore e così arrivano conclusioni da fuori il Pescara in palla e con Pettinari al trentatresimo arriva ad un passo dal vantaggio con Audero che dice no al bomber abruzzese mandando il pallone in calcio d'angolo il Venezia risponde al quarantatresimo con l'ex Spallino Zigoni che in aria in equilibrio precario mette alto Stulac pericolosissimo poi al quarantacinquesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il suo missile che si stampa sulla parte alta della traversa facendo correre un brivido ai tifosi pescaresi presenti in curva nord nella ripresa si parte con due gialli per Balzani e Frey e un po' di nervosismo e con Inzaghi allontanato dalla panchina della Venezia dal direttore di gara per proteste in campo però accade poco con Venezia e Pescara ad annullarsi a centrocampo e con i due portieri inoperosi il tecnico veneziano poco dopo manda in campo Litteri e Fabiano per Zigoni e Firenze Pillone risponde gettando nella mischia Campagnaro per Capone e mettendosi a specchio dei lagunari che al 34esimo arrivano davvero ad un soffio dall'1 a 0 con Vincenzo Fiorillo strepitoso con la parata a salvezza su conclusione ravvicinatissima del neoentrato Litteri spingono i padroni di casa con grande vemenza e con il Delfino che soffre nel finale di gara riuscendo però a portare a casa al 93esimo lo 0 a 0 e una salvezza comunque dal valore inestimabile Sì infatti abbiamo raggiunto l'obiettivo un obiettivo importante perché la situazione non era delle più semplici quando sono arrivato però grazie all'aiuto dei miei giocatori che sono stati stupendi da questo punto di vista si sono subito messi a disposizione secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare abbiamo fatto le partite che dovevamo fare ne abbiamo perse due perché abbiamo giocato tutte e due le partite in dieci dal decimo del primo tempo a Vercelli e dal ventesimo contro l'Ascoli e lì abbiamo perso le due partite ma il resto il cammino è stato perfetto per quello che dovevamo fare non abbiamo parlato con il presidente perché chiaramente c'era in palio la salvezza è impossibile parlare di contratto di altre situazioni adesso a bocce ferme abbiamo raggiunto l'obiettivo vedremo se il Pescara è il presidente i tifosi sono contenti che io resti firmerebbe in bianco o quasi? No è chiaro che devo parlare con la società chiaramente perché devo vedere anche cosa pretendono a me cosa vogliono vedere i programmi vedere se sono contenti che io resti perché poi alla fine bisogna vedere se la società è contenta perché chiaramente io sono a di là di tutto che resti che non resti ma sono contentissimo di quello che abbiamo raggiunto e di aver raggiunto l'obiettivo che per me era essenziale non nascondo che questa settimana ho dormito molto poco ha detto non ho parlato col presidente però qualche sera fa siete stati a cena insieme di qualcosa avrete anche parlato probabilmente si attendeva questa salvezza però da domani probabilmente il presidente si farà sentire per vedere che cosa vuole fare Pilon e vuol far sapere a Pilon che cosa vuole fare la società sì sì ma chiaramente il presidente o nel bene e nel male mi chiamerà per dirmi cosa vuole fare e lì parleremo se ci sarà la possibilità di continuare il percorso insieme bene sono a disposizione ne parliamo parliamo di programmi parliamo di come è normale che sia di tutto insomma in generale di cosa vuole fare se invece la risposta sarà che magari io ho raggiunto l'obiettivo e penso a un'altra persona amici più che prima perché io devo solo ringraziare il Pescara la società il presidente di avermi dato l'opportunità di allenare questa squadra a cui mi sono affezionato molto mi piacerebbe tenere l'ossatura importante di questa squadra dove abbiamo lavorato quest'anno in modo di avere un vantaggio avremo un vantaggio con degli uomini che per noi sono stati importanti avremo un vantaggio di aver già lavorato un mese e mezzo insieme a loro due mesi un mese e mezzo mi sembra perciò questo sarebbe un vantaggio è chiaro che intorno poi bisogna vedere perché ho visto che non so di preciso ma ci sono parecchi prestiti e parecchie situazioni da valutare ma come modulo quelle piace no io continuerai quel 4-3-3 insomma vedremo se Bevi Pilon continuerà ad essere il timoniere del Pescara anche la prossima stagione intanto il Pescara e torniamo sulle colonne del centro prende il punto della liberazione pareggio senza grosse emozioni a Venezia quello che però serve per dribblare i play out una salvezza viene definita sofferta ieri c'era anche il presidente Sebastiani in panchina per seguire gli ultimi 90 minuti della stagione missione compiuta vorrei restare qui Pilon esulta obiettivo raggiunto il mio futuro puntini puntini un delfino in salvo vediamo anche le pagelle Fiorillo Guizzo per blindare la salvezza portiere decisivo nella ripresa su Litteri per rotta provvidenziale nel primo tempo su Zigoni Fiamozzi invece è un po' titubante cambiamo pagina perché andiamo a vedere il calcio a 5 poker a questa pone ora la zampata a Scudetto i nerazzori sono in finale la squadra di Perez fa il blitz a Rieti 4-1 in gara 2 della semifinale aspetta la vincente tra Dosson e Luparenzi in campo stasera per la serie C Teramo la salvezza è il premio per una gestione oculata e in basso per la D Montani carica il San Nicolò calma e nervi saldi per restare proprio in serie D per il basket Magic Chieti vince la C Silver e poi per il basket sempre Roseto la salvezza in realtà ma il futuro del Roseto è un rebus a 2 conservata sul campo ma senza basi solide sarà difficile ripartire questa mattina parla Norante cambiamo quotidiano torniamo sul messaggero perché vediamo l'acqua e sapone anche qui grande acqua e sapone adesso in finale gli abruzzesi vincono a Rieti in gara 2 playoff scudetto controllando il match punteggio finale 4-1 decidono Bertone e Boccao nel primo tempo poi Jonas e Lima per la D l'Aquila saluta la città nuovo contatto con Ius invischiato e prosciolto in mafia capitale adesso rientra nel calcio per l'Avezzano invece l'Avezzano d'Alessandro la forza le quote in società ha adesso il 25% in basso le parole di coach di Paolo Antonio per il Roseto Basket se non avessimo vinto giovedì avremmo perso anche a Roseto con questa notizia noi chiudiamo mattino 6 per quest'oggi mattino 6 che torna lunedì mattina ovviamente sempre alle ore 8 per tenervi in compagnia e farvi leggere le principali notizie dei quotidiani vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro giornale con le principali notizie della regione è tutto buona giornata che torna lunedì Grazie a tutti